Hola, sono Tommaso Paterno di Radusa, ho 22 anni e studio Economia e Management presso l'Università di Siena. Quando ho scelto il Perù avevo tre diverse opzioni per l'università, però l'Università di Lima era quella che mi ha sorpreso di più con il campus, con il ranking che ho visto su internet. Il campus è molto grande, ci sono molte opportunità, molte attività che si possono fare, come la palestra che è aperta a tutti gli studenti sempre. Il semestre passato ho studiato cinque materie qui e ho chiesto per un prolungamento perché mi è piaciuto molto, quindi sono rimasto per ulteriori cinque mesi. Mi piace molto il metodo di studio qui, è molto più pratico che teorico e si adatta molto di più a me. Sto studiando molto l'import ed export dei prodotti tra il Sud America e l'Europa perché è un campo che mi interessa molto. Mi piacerebbe molto esportare da Latina America come frutta, che hanno molta frutta tropicale, importarle in Europa che non ne teniamo molta e importare in Latina America molte cose che teniamo in Europa che qui non hanno. Ho visitato molte città qui in Peru come Cusco, Arequipa, Iacuccio, Iquitos, Mancora e mi sono piaciuto molto. Quando sono arrivato qui non parlavo molto bene spagnolo, quindi ho avuto un po' di problemi con la comunicazione, quindi un consiglio che posso dare a tutti gli studenti è di studiare un po' di spagnolo prima di venire qui in modo che avrete già una base e sarete molto davvantaggiati. Credo che il Peru e l'Università di Lima sono locali perfetti per fare un Erasmus. Escucha il testimonio completo in zona di embarque, disponibile in Spotify e Apple Podcast.